Senti vita, Baranta Kim, prima della pandemia, 45, il Teatro delle Sardine adesso a 35, si ferma a 30, 38 metri quadri. Grazie, grazie a tutti, buongiorno a tutti, sono onorato, felice, lieto. Non va nemmos, non va nemmos in cui saldomos boidarsa, saldomos de salmessos boidarsa, de sasscrivias boidarsa, de solettos boidoso e de salventana serradarsa, de hallanna serradarsa. non va loco non va loco non va loco in cui si albita al boida in cui si ha sprazzo al boida non va nemmos non va nemmos non va nemmos di tutta questa gente che ha lasciato tutto il boido tutto il boido tutto il boido va pezzos va femmini sergati senza domi va domini che in solo saorza di alzare un attirato a sei vino va pezzinno che curano, giocano, curano e strocchano il suo manno sono sbalentese non va nemmos non va loco va loco il boido il boido è che si deve prenare di gente gente che viene dal su mare dalla terra gente che viene dalla guerra questo boido si deve prenare di questa gente puite sino si che moriti si che in mente ricatta se adomo boida ne rughe da terra sono muri rughe da terra se albita al boido rughe da terra tutto ne rughe da terra e tutto si prena di rughe e di ammendosi che in gente morì in sette anni so spattos assuntos saldi invasicadas a sas bucas serradas che ne bocchis che ne ha detto che ne orza di questionare il plus salvo che si son perdidas e se a sas di scuola andò tutta la stessa maniera non ho dato a cambiare se non appena scusa gianna se non appena scusa ventana se in cosa dormo non vintra nemmoso se in cosa messa lo danno a manicare a nemmoso se cus loco boido non si prena non bannemos non bannemos non bannemos a peri cus a ventana a peri cus a gianna a peri cus a lomo faghe entrare zente faghe entrare si stranzo pone a manicare a peri faghe entrare faghe entrare si speranzia grazie bravo grazie